Allora, vuoi diventare un DJ? Sì, signore. Sentiamo cosa è importante. Se Namir non ha questa cosa, entra la nottata. Siamo tutti morti. Ciao, mi bagni. E ora... Adesso! Sono io che vive! Chi muore. Sanno che tutto è una merdata, ma non vogliono smettere. Sanno che tutto è una merdata, ma non vogliono smettere. Sanno che tutto è una merdata, ma non vogliono smettere.